Benvenuti al quarto episodio della serie dove esploriamo diversi indici azionari e obbligazionari e ci immergiamo nelle loro caratteristiche come il profilo di rendimento e rischio e vediamo anche alcuni dei migliori etf tramite cui possiamo investire. Questa serie è pensata per avere una visione più chiara sugli indici di investimento. Capirne meglio le caratteristiche aiuterà a costruire un portafoglio più in linea con gli obiettivi di rendimento e rischio che vogliamo perseguire. L'idea è cercare di prendere decisioni di investimento più informate. I vostri feedback positivi ma anche negativi mi aiuteranno a cercare di capire se continuare questa rubrica. Oggi vediamo la Cina, la seconda potenza economica mondiale ma che ultimamente sta attraversando grandi difficoltà chiaramente visibili se si osserve il suo mercato azionario e che non solo sta facendo incredibilmente male negli ultimi due anni ma si sta comportando anche in controtendenza rispetto al resto del mercato globale. Ricordate i miei video non sono consigli di investimento ma semplicemente il mio punto di vista. Non essendo il vostro consulente finanziario vi incoraggio a fare le vostre ricerche e prendere decisioni indipendenti. Quindi oggi portiamo avanti questa rubrica e faremo pure delle comparazioni con degli indici che già abbiamo esaminato in passato e li confronteremo da diversi punti di vista. Rendimenti medi storici, drawdown massimi, tempi di recupero, volatilità, concentrazione settoriale e su singole azioni. Vedremo un bel po' di cose interessanti. Iniziamo e poi vedremo alcuni ETF che possiamo considerare per investire nel paese. Bene, perché la Cina dovrebbe avere un certo peso nel nostro portafoglio? Un motivo l'abbiamo già detto. La Cina è il secondo paese per PIL ed è anche in forte crescita. Quindi è un paese che ha ormai un suo ruolo importante a livello globale e che non possiamo ignorare quando decidiamo di investire e che potrebbe infatti fornire degli elementi ulteriori di diversificazione per il nostro portafoglio, soprattutto se nei prossimi trimestri e anni il suo mercato azionario dovesse recuperare dai livelli infimi e indecorosi raggiunti di recente. Mi investito e razionale che parole forti che usi? Pensate che a seguito delle flessioni degli ultimi anni il peso cinese negli indici azionari globali si è ridotto in modo drastico, ma anche all'interno degli indici dei paesi emergenti. Sono sufficienti poche azioni americane per superare in capitalizzazione l'intero mercato cinese. Questo ci deve far riflettere. In un indice globale oggi il paese ha un peso imbarazzante inferiore al 3%, nonostante la sua economia abbia un ruolo a livello globale decisamente maggiore. Questa grande discrepanza sta spingendo alcuni investitori a domandarsi se magari potrebbe essere opportuno aggiungere in portafoglio anche la ferita Cina, in aggiunta chiaramente a ciò che già si possiede. E ovviamente non nel modo insensato adottato da molti negli ultimi anni, che forviati da una retorica super pro Cina, hanno dedicato al paese quasi un peso predominante e ad ogni ulteriore di basso, anche piccolo, hanno continuato a mediare le loro posizioni. Peggio ancora quando si trattava e si tratta di singole azioni. Se è quasi impossibile immaginarsi le dinamiche future di interi indici azionari lo è ancor meno capire cosa potrebbe accadere al futuro di singole società, perché le informazioni che arrivano a noi piccoli investitori sono briciole. In particolare se queste informazioni provengono da un paese che non si è mai contraddistinto per grande trasparenza, che ogni tanto interrompe anche la condivisione di alcuni importanti dati macroeconomici senza preavvisi o che invita le sue imprese a non sbilanciarsi troppo sulle prospettive economiche cinesi. L'ultima ambiguità è accaduta appena qualche mese fa, quando la Cina all'improvviso aveva interrotto nel 2023 la comunicazione dei dati sulla disoccupazione giovanile. Vi faccio un attimo capire. Uno dei paesi al mondo con la più elevata disoccupazione giovanile è l'Italia, perché noi abbiamo manie di protagonismo e vogliamo essere sempre citati negli studi macroeconomici globali. In Italia la disoccupazione giovanile è al 20%. Ad agosto 2023 gli ultimi dati cinesi parlavano di una disoccupazione giovanile di circa il 21%. A partire d'agosto luglio 2023, se non ricordo male, la Cina non pubblicò più i dati aggiornati relativi a questo dato, dicendo che il metodo di calcolo utilizzato andava ottimizzato. Dopo aver fatto arrabbiare ovviamente anche per interessi politici molti governi, ma anche investitori che hanno accusato il paese ancora una volta di poca trasparenza, la Cina recentemente ha fatto un passo indietro, decidendo di essere un po' più trasparente. Ed ecco che la disoccupazione giovanile in Cina è tornata. Il governo ha detto che ha provveduto a rimisurarla finalmente in modo più accurato, così tutti gli investitori possono ora stare più sereni. Il nuovo metodo parla ora di una disoccupazione giovanile di circa il 14% dal 21% del precedente metodo. Dopo la pubblicazione di questi dati il governo Meloni vuole farsi di calcolare la nostra disoccupazione giovanile dall'agenzia cinese. Quando penso agli investimenti in Cina non riesca a non pensare che il governo da quelle parti sia una presenza un po' troppo ingombrante. Poi ognuno può ragionare un po' come vuole. Comunque questo per me significa che investire in singole azioni o dedicare un peso eccessivo alla Cina è qualcosa che io non farei. Però tra il non dedicare un peso eccessivo al dedicarne solamente il 3% ci sono anche delle vie di mezzo. Non è vero investitori razionali. Il problema della trasparenza in Cina sono tutte fandonie e non è un vero problema. In realtà è un problema avvertito dagli investitori che negli ultimi anni stanno abbandonando la Cina. È così avvertito che il precedente presidente della commissione che si occupa della regolamentazione del mercato azionario è stato sostituito da uno nuovo che ha assunto l'impegno di aumentare la stabilità e la trasparenza per allinearsi agli standard internazionali e aprirsi maggiormente al mercato globale. Il nuovo regolatore ha effettuato anche degli incontri con gli investitori per cercare di raccogliere consigli e capire quali fossero i problemi. Dagli incontri è emerso che gli investitori sono infastiditi da come la regolamentazione in Cina possa cambiare in modo radicale e in breve tempo ma anche dalla facilità con cui molte società in modo fraudolento riescono a quotarsi o a restare quotati. Comunque dopo poco tempo l'avvento del nuovo presidente diverse società sono state multate per vari frodi. Gli investitori ultimamente stanno apprezzando questo sforzo di maggior trasparenza e nell'ultima settimana gli indici azionari cinesi hanno fatto abbastanza bene. In ogni caso queste riflessioni di breve periodo non servono per fare un recap di ciò che sta accadendo ora nel paese ma per dire che è indiscutibile che investire in Cina presenta dei rischi ulteriori rispetto agli investimenti nei mercati sviluppati e questo è un elemento di cui un investitore deve essere consapevole e anche per questo motivo le sue quotazioni stanno viaggiando su multipli bassissimi rispetto al resto del mondo. Andando avanti in Cina l'economia non sta crescendo più come eravamo abituati. Quello che vedete è il tasso di crescita annuale del PIL cinese. Se vedete la linea nera inclinata verso il basso significa che nonostante la crescita sia forte questa negli ultimi 13 anni sta lentamente riducendosi. Il problema della Cina non è tanto che la crescita si sta riducendo ma che soprattutto dal 2008 ha spinto la sua crescita principalmente tramite investimenti pubblici e privati. Già ne avevamo parlato altre volte. Se guardiamo le componenti del PIL della Cina possiamo vedere che la sua economia è principalmente spinta dagli investimenti e molto poco dai consumi che pesano per circa il 37 per cento del PIL complessivo. Negli Stati Uniti e in India pensate un po' che i consumi hanno un peso compreso tra il 60 e il 70 per cento del PIL. Già ne avevamo parlato altre volte. Una crescita fondata sugli investimenti è meno solida perché gli investimenti per essere effettuati richiedono capitali che solitamente vengono presi in prestito. In ogni caso prendere capitali in prestito per investire significa che devi aumentare costantemente il tuo livello di indebitamento che come abbiamo visto negli altri video di questa rubrica in Cina è in crescita verticale. Anche negli Stati Uniti il livello di debito pubblico e privato è molto elevato ma la sua crescita si sta stabilizzando mentre in Cina per stabilizzarsi sarebbe necessaria una terapia d'urto con conseguenze enormi per la sua economia. Il livello di indebitamento invece in Europa e in India non desta ancora preoccupazioni. Il problema del debito è che ti aiuta a crescere più velocemente nel breve periodo ma riduce le possibilità di sfruttare questa leva in futuro. Il problema è che se poi gli investimenti non sono neanche molto produttivi il problema si aggrava. In Europa come detto il livello di indebitamento pubblico è sotto controllo ma questo è stato raggiunto perdendo tantissima competitività a livello globale. Non è un caso se Draghi ultimamente stia lanciando degli appelli per rilanciare l'economia del continente mediante grandi investimenti pubblici ma anche privati ma fin quando l'Unione Europea sarà questa il vecchio continente non sarà in grado di prendere delle decisioni importanti. Quello che vediamo è il livello di debito pubblico ma se guardiamo quello privato notiamo che la situazione in Cina è ancora più complessa. Un altro aspetto che riguarda l'economia cinese è che la sua popolazione sembra destinata ad una lenta riduzione e quando la popolazione di un paese si riduce diventa anche più difficile crescere. Questa è una situazione diversa rispetto a quella indiana. Nonostante tutti questi aspetti la Cina sta cercando di guadagnare il suo spazio tra i paesi a maggiore vocazione tecnologica concentrando molti dei suoi investimenti su questo settore quindi magari nonostante molti eventi contrari di breve e lungo periodo riuscirà a rilanciare il suo mercato azionario e la sua economia trasformandola appunto in un'economia basata maggiormente sui consumi interni che è uno dei desideri maggiori degli investitori ma anche dello stesso governo che in modo più o meno velato ha indicato essere tra gli obiettivi politici principali. Ora concentriamoci sugli strumenti tramite cui possiamo investire in Cina. Prima di andare avanti ribadisco quello che ho detto prima in questo momento il mercato azionario cinese ha delle valutazioni incredibilmente basse e quindi potrebbe essere interessante per chi è esposto pochissimo nel paese senza ovviamente esagerare. Puoi investire in Cina tramite diversi indici noi ne vedremo tre vi spiegherò in breve in cosa consistono. Il primo indice è l'MCI Cina A che permette di investire in azioni di classe A cioè società cinesi con sede nella Cina continentale negoziate sulla borsa valori di Shanghai e Shenzhen in valuta locale. Per gli investitori esteri è molto difficile poter acquistare queste azioni infatti solo investitori esteri che ottengono determinate certificazioni possono acquistarle. Sono circa 50 le società estere che hanno ottenuto le autorizzazioni necessarie. L'indice comprende circa 500 azioni cinesi. Poi c'è il CSI 300 che possiamo definire un sottinsieme dell'indice precedente. Infatti ciò che cambia è che quest'indice comprende le 300 azioni a maggior capitalizzazione di classe A. Poi abbiamo semplicemente l'MCI China che comprende tante azioni cinesi di qualsiasi classe quindi azioni cinesi quotate ovunque e denominate in qualsiasi valuta. E' qui che troverete le società cinesi che tutti noi conosciamo Tencent, Alibaba, Jdu, Baidu, bla 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 bla. Le azioni qui incluse chiaramente sono di più circa 750 quindi è l'indice più grande. Bene ora vediamo alcune interessanti statistiche relative al suo mercato azionario e mentre facciamo delle comparazioni con l'S&P 500. Il mercato europeo è quello indiano. Mercati che abbiamo approfondito nelle scorse settimane. Trovate i link in descrizione al video. Prima di decidere in quale indice azionario investire è opportuno conoscerlo un minimo cioè qual è stato il rendimento medio storico e anche il suo drawdown massimo. Ovviamente questo non ci permetterà comunque di dire che è ciò che ci dovremmo attendere per il futuro ma in ogni caso permette di farci un'idea di quanto potrebbero perdere gli indici azionari in caso di forte stress. Perché come sempre le statistiche passate non forniscono garanzie sul futuro e le performance del passato sono il frutto di quanto accaduto nel passato e quello che otterremo dipenderà dalla situazione in cui viviamo oggi e vivremo nei prossimi anni. Allora cosa ci mostra questo grafico? Nell'asse verticale abbiamo il rendimento annuo composto che avremmo ottenuto se avessimo investito negli strumenti riportati negli ultimi dieci anni. Prima che qualcuno abbia qualche dubbio per effettuare il calcolo ho considerato gli ultimi dieci anni e degli etf effettivi. Poi nell'asse delle ascisse ho riportato il massimo drawdown subito dagli indici dal 1980 ad oggi cioè la flessione più elevata dal punto più alto a quello più basso. Nella matrice ho inserito anche quanto tempo un investitore sfortunato avrebbe dovuto aspettare per ritornare in pareggio con quanto investito inizialmente se avesse investito nel momento peggiore degli ultimi 40 anni ed escludendo la possibilità di mediazione delle posizioni. Nel calcolo dei rendimenti ho considerato anche il rendimento da dividendo. Per quanto riguarda l'S&P 500 ho riportato 13,5 anni come tempo di recupero dal peggior crollo ipotizzando di investire nell'indice americano senza copertura cambio e lo stesso vale per tutti gli indici esteri. Cosa possiamo notare? Che il rendimento delle azioni di classe A è stato migliore rispetto all'indice omnicomprensivo MCI Cina. Infatti sono state proprio le società che avevamo menzionato in precedenza ad essere state principalmente penalizzate dal mercato e che quindi negli indici delle azioni A non sono comprese. Come possiamo vedere la performance così deludente è dovuta al crollo vertiginoso degli ultimi due anni perché altrimenti le performance sarebbero state notevolmente diverse. Ritorniamo alla matrice precedente e guardiamo il drawdown spaventoso dell'MCI Cina. La flessione peggiore che ha subito l'indice cinese è stato dell'88% ed è avvenuto negli anni 90. Il mercato azionario cinese impiegò 24 anni a recuperare e quindi capite quanto sia rischioso quest'indice e pensare che ci sono investitori che negli ultimi due anni avranno mediato singole azioni dieci volte. Negli investimenti ci vuole pazienza, sangue fredde ed equilibrio. Chi cerca il guadagno veloce affidandosi ai titoloni e speranze prima o poi si rompe i denti. Il tempo è il più grande alleato che abbiamo e il secondo è la diversificazione. Gli altri due indici azionari cinesi sembra che abbiano avuto un drawdown massimo cioè perdita massima più bassa negli ultimi 40 anni ma in realtà è perché non sono riuscito a trovare serie storiche che arrivano agli anni 90. Anzi è anche possibile che siano stati creati anche successivamente ma poco importa. Comunque negli anni 90 è risaputo che il mercato azionario incontrò delle forti difficoltà. Quindi penso che qualsiasi indice azionario cinese avrà riportato un drawdown di circa l'80% davvero. Per quanto riguarda il rendimento le azioni di categoria A si sono comportate decisamente meglio negli ultimi dieci anni. Forse perché essendo meno trattate dagli investitori esteri le pressioni al ribasso sono state anche minori ma onestamente non sono sicuro al 100% anche perché io seguo principalmente l'MCI Cina Omni comprensivo. Ora le statistiche che vedremo si riferiscono principalmente a quest'indice perché anche se ha fatto peggio resta quello più diversificato e nessuno può sapere quale indice nel futuro farà meglio. Esaminiamo anche la volatilità a cinque anni degli strumenti considerati. Questa insieme al drawdown rappresenta una misura del rischio di uno strumento finanziario. Infatti maggiore è l'oscillazione dei prezzi maggiori sono le possibilità di subire perdite significative in scenari di mercato negativi. L'S&P 500 negli ultimi cinque anni è stato lo strumento più volatile seguito dall'India e infine dall'Europa. Ripartizione similare anche per quanto riguarda la performance conseguita dagli indici e questo è perfettamente coerente con la logica perché strumenti un po' più rischiosi e volatili dovrebbero a livello di aspettative conseguire un rendimento maggiore perché se non fosse così cosa accadrebbe? I prezzi dello strumento più volatile crollerebbero fino al punto in cui chi deciderà di investire da quel momento in poi potrà ottenere di nuovo in termini di aspettative un rendimento superiore e in linea con le aspettative. In questo momento la Cina si trova in una posizione insensata e anche per questo in termini di aspettative forse potrebbe essere un investimento interessante perché le sue valutazioni sono crollate in modo clamoroso negli ultimi anni e ora sono diventate più interessanti rispetto ad un paio di anni fa. Poi cosa accadrà nel concreto nessuno può saperlo ma non è neanche l'obiettivo di questo video. Prima di addentrarci e vedere alcuni etf tramite cui possiamo investire in Cina è importante capire cosa acquistiamo cioè quali sono i sottostanti in quali settori investiremmo e quanto se sono settori più volatili o difensivi se saremo troppo esposti in singole società. Tutte queste informazioni ci aiutano a comprendere se l'indice su cui vogliamo investire si sposa bene con i nostri obiettivi finanziari preferenze e profilo di rischio. Quindi vediamo un po' tutti questi elementi. Iniziamo guardando i settori il peso maggiore è occupato dai consumi discrezionali con un peso di circa il 29 per cento circa. Anche il settore dei servizi di comunicazione e quello finanziario hanno un peso considerevole. Invece mi stupisce sempre vedere come il settore tecnologico in Cina abbia un peso così basso di circa il 6,5 per cento contro il 28 per cento circa dell'S&P 500. La Cina è fortemente esposta come possiamo vedere nei settori più volatili e che in teoria dovrebbero pure crescere molto nel lungo periodo. Certo che di questo passo la strada è anche bella lunga. Però per consentire una comparazione agevole tra indici diversi ho calcolato un indicatore per valutare il livello di concentrazione settoriale per capire velocemente quali indici o paesi sono più esposti in pochi settori. Il livello di concentrazione in Cina è molto forte. Ovviamente ricordiamo che maggiore la concentrazione in pochi settori maggiori sono i rischi derivanti dall'investire in quel singolo indice perché durante lo stesso anno spesso settori diversi tendono a muoversi in direzioni opposte perché reagiscono diversamente alle notizie macroeconomiche e questo dona all'indice una maggiore stabilità. Il contrario quando l'indice è fortemente concentrato in pochi settori. Questo effetto di diversificazione viene a mancare. Ricordiamo sempre che il rischio non è un attributo negativo in finanza ma indica la variabilità dei risultati ottenibili. Solitamente ad un maggior rischio deve essere attribuito un maggior rendimento. Se così non dovesse essere ci sarebbe qualcosa che non va. Valutiamo anche la concentrazione in singole azioni. Nell'S&P 500 le prime 10 società pesano per il 31%, in Europa per il 22% e in India per il 35% circa e in Cina per il 42%. Quindi finora nessun indice come quello cinese dipende dalle performance di così poche società e questo ovviamente rappresenta un ulteriore fattore di rischio. Come ho fatto in precedenza ho calcolato un indice di concentrazione su singole società per farci velocemente un'idea. Prima di passare a vedere alcuni tra gli etf più interessanti tramite cui possiamo investire ci dovremmo anche chiedere se questi indici si caratterizzano per la presenza di società che tendono a distribuire dividendi. Diciamo che la Cina si colloca in una via di mezzo. Dopo questo ulteriore viaggio all'interno degli indici azionari cinesi esaminiamo alcuni etf tramite cui possiamo investire. Come sempre vi ricordo che non esiste un etf migliore in assoluto ne riporterò qualcuno e li commenterò ma poi voi ovviamente deciderete in autonomia perché i miei video non contengono consigli finanziari anche perché ci sono tantissimi etf tramite cui poter investire quindi è possibile che mi sfugga qualche etf interessante quindi sentitevi liberi di riportare nei commenti tutti gli etf che ritenete interessanti e magari specificando anche il motivo. Bene non ci sono tantissimi etf grandi e liquidi tramite cui poter investire in Cina io ne riporterò solamente quattro poi voi approfondirete per i fatti vostri e se comprerete altro non mi offenderò tranquilli. Quest'etf come riportato investe nell'MCI Cina A o EI come preferite. È a replica fisica di grandi dimensioni abbastanza liquido le spese annuali sono dello 0,44 per cento circa ogni anno. Le spese annuali sono elevate sicuramente rispetto ad altri f sono un po più elevate ma considerando che stiamo parlando di uno strumento molto variabile potrebbe anche andar bene anche se io solitamente preferisco non andare mai sopra lo 0,3 0,35 per cento. Quest'etf è negoziabile solo su Xetra quindi prima di acquistare valutate quanto il vostro broker vi fa pagare in commissioni perché a volte sono decisamente più alte quando si investe in borse estere. Questo etf invece investe nel CSI 300 ed è a replica sintetica ed è anche acquistabile sia su borsa Xetra che borsa italiana. Oltre a questo le altre caratteristiche sono identiche alle precedenti. Questi etf qui invece investono nell'MCI Cina. Il primo è acquistabile solo sulla borsa tedesca e il secondo anche su borsa italiana. Il secondo etf è leggermente più caro del primo. Oltre al Terra il secondo etf presenta dei costi ulteriori che portano i suoi costi medi annuali intorno allo 0,4 per cento e lo spread è leggermente più alto. Anche qui avete tutti i dati per capire sulla base dell'ammontare che vorresti investire cosa vi conviene fare. Un paio di note lo spread di tutti questi etf non è bassissimo ma ricordiamo sempre che lo spread si paga solo in fase di contrattazione quindi se non facciamo acquisti frequenti sono accettabili. Inoltre considerando quanto volatile sia l'indice cinese l'incidenza dei costi una tantum diciamo che è abbastanza bassa. Poi un'altra cosa è possibile investire ovviamente in Cina anche ricorrendo ad etf che investono sui paesi emergenti in generale quindi se il peso previsto da quest'ultimi vi va bene è inutile ricorrere anche ad etf specifici come quelli appena visti. Come discusso fino ad ora gli indici cinesi sono per cuori forti e quindi mi verrebbe anche da dire che rispetto ad un indice azionario classico richiede sicuramente un orizzonte temporale e propensione al rischio decisamente maggiori. Rischio elevato in finanza significa anche possibilità di profitto maggiori quindi ognuno conoscendo i pro e contro e la propria situazione personale dovrà prendere la propria decisione. Va bene ragazzi questo è il quarto video di approfondimento sugli indici azionali quindi se siete interessati in descrizione trovate i link ai video precedenti. Ci sono ancora tanti indici che potremmo approfondire insieme ma come sempre vi ricordo che continuerò questa saga se i feedback saranno sufficientemente positivi quindi fatemi sapere. Nei commenti ditemi pure se ci sono alcuni indici che volete che vengano approfonditi così li prenderò in considerazione. Come sempre spero che il video sia stato interessante in caso vi chiedo di lasciare un like un commento accendere le notifiche condividere il video fatelo tutti per oggi è davvero tutto ciao